Italo Calvino scrisse che la conoscenza degli altri passa necessariamente attraverso la conoscenza di noi stessi. Io di me ho sempre capito pochissimo. Ciao a tutte le creature della notte, la poesia avara diversi di oggi è stata scritta da un poeta nato ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio 1888. Sto parlando di Giuseppe Ungaretti. La poesia che leggeremo oggi è stata scritta nel 1917 e si intitola Allegria di naufragi. È brevissima, composta da una sola metafora. E subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un superstite, lupo di mare. Innanzitutto partiamo dal titolo. Allegria di naufragi è già uno simoro perché sono due parole che non stanno bene insieme. Chi naufraga di solito non è allegro, non è felice, un naufragio non è mai una cosa bella. Quindi già il titolo è uno simoro, è molto curato, d'effetto e ci piace. Questo titolo poi è bello perché racchiude in sé tutto il significato della poesia. Questa sarà una poesia che parlerà dell'allegria che possono portare i naufragi. Che sembra impossibile ma c'è un'allegria nei naufragi. Questa allegria naturalmente è quella della vita che ricomincia, è un nuovo inizio dopo il naufragio. E infatti la poesia si apre dicendo e subito riprende. Sono le prime parole. È sempre molto bello quando una poesia inizia con e perché vuol dire che qualcosa c'è stato prima e si aggiunge qualcosa dicendo e subito riprende dopo qualcosa che è già successo prima. Vediamo la struttura. La struttura è molto semplice, basilare. La poesia è composta da una similitudine e la struttura la mostra proprio perché dice e subito riprende il viaggio, poi un verso composto dalla sola parola come e poi la seconda parte della similitudine. Dopo il naufragio, un superstite, lupo di mare. Forse io avrei tolto un verso alla fine per fare la simmetria perfetta, no? Due versi come altri due versi. Però vabbè insomma le cose perfette non sono mai belle. Voglio farvi notare soltanto una cosa sui suoni. Voglio farvi notare la corrispondenza tra la parola viaggio che regge la prima parte e la parola naufragio che regge la seconda. Viaggio e naufragio. Sono due parole che si richiamano per assonanza ed è stupenda questo richiamo interno. Ma la cosa che mi ha colpito di più di questa poesia è stato l'ultimo verso. Lupo di mare. Mi ha colpito di più. Io l'avrei tolto perché, come ho detto prima, avrei fatto la simmetria perfetta per far vedere bene questa similitudine. Però in realtà è il verso più importante. Perché essendo in più, porta l'attenzione su di sé. E quindi ci porta a focalizzarci sul fatto che sia scritto lupo di mare. E perché questo? Perché è un lupo di mare che ha fatto un naufragio. Cioè è un esperto, è uno che ci sa fare nel mare, nella vita. È uno che ha fatto un naufragio anche se è un esperto. Questo cosa vuol dire? Che insomma tutti sbagliamo nella vita. Anche i più esperti compiono i loro errori. Ma poi si ricomincia subito. Questo sì è il messaggio più banale del mondo perché è sempre quello. Però è il più profondo. È la vita che ricomincia. E dopo ogni errore ricominciare. La nostra lettura finisce qui. Spero che vi sia piaciuta. Ciao a tutte le creature della notte. E fatela breve. Allora così, è uno che è... Grazie a tutti.